Bene, benvenuti tutti allo Spazio 1, questa sera presentiamo la penultima conferenza con Giovanni Vota e questa sera parleremo di gratitudine, abbondanza di amore e abbondanza di economia, quindi a livello economico, quindi un argomento bello caldo anche questa sera. Prima ci sarà una meditazione con Barbara Goya per portarvi in uno stato meditativo e quindi più recettivo e ascoltare le parole di Gianni, come vi dicevo è la penultima conferenza però poi sicuramente ricominceremo quest'autunno. Non rubo altro tempo, lascio la parola a Gianni e a Barbara, buona serata a tutti. Grazie, namaste e benvenuti. Di cosa ci occupiamo stasera? Partendo da tutto quello che abbiamo visto in questi mesi di spiritualità e della fisica unificata, le applicheremo a due temi specifici. L'abbondanza di amore e l'abbondanza economica. Specifico di amore ed economica perché se tu parli solo di abbondanza, l'universo può anche dire abbondanza di ciccia, abbondanza di problemi, invece ci occupiamo di abbondanza di amore e abbondanza economica. E la questione, la domanda è questa, ma l'abbondanza anche economica, è questione di fortuna? Oppure c'è qualcosa da capire a fondo che riguarda le leggi dell'universo? Sempre nell'ottica nostra di amore e gratitudine, quindi non perché faccio male agli altri, ma perché vivo in un certo tipo di frequenza. Le basi sono quelle che abbiamo visto, cioè il pianeta sta salendo alla quinta dimensione spirituale, stiamo passando alla quarta e alla quinta, c'è questa ascensione in atto, evidente, e c'è in atto la quarta rivoluzione industriale, che abbiamo visto cambierà radicalmente tutto il mondo del lavoro e dell'economia. E siamo nell'era esponenziale, lo vedremo diverse volte stasera, non siamo nell'era moderna, non siamo nell'era contemporanea, quello fa parte del passato. Quella attuale si chiama era esponenziale, dove tutto cresce alla velocità esponenziale. E anche i modelli economici non è più il capitalismo, non è il socialismo, non è il comunismo, tutta roba archiviata. Attualmente il modello economico è la sharing economy, l'economia della condivisione, che sta cambiando tutti i giochi economici sul pianeta. Come dice Nassim Aramein della Fisica Unificata e la Jasmine, con cui noi lavoriamo con tutti e due, perché ci occupiamo di scienze e spiritualità? Perché la spiritualità è nient'altro che una fisica che non abbiamo ancora capito. La cosa bella è che man mano che noi comprendiamo le leggi della fisica, vediamo che dicono quello che gli antichi nella spiritualità hanno sempre detto. E quindi le due cose coincidono. Ma soprattutto in una serata come questa, mi raccomando, quello che diceva il Buddha, non dovete credere neanche a una sola parola di quello che vi dirò. Perché questa è la mia strada, voi dovete trovare la vostra, per, come al solito, trovare come cambiare la nostra vita in meglio. Ma cominciamo con una meditazione di Barbara. Namaste, benvenuti. Facciamo una meditazione di qualche minuto sull'apertura di cuore, perché come vedrete, l'apertura di cuore è importante per ricevere. Quindi se siete pronti, slacciamo le gambe, poggiamo i piedi a terra e chiudiamo gli occhi. La mia attenzione va al respiro e mentre lo ascolto, l'esterno si spegne. Quando non osservo più la realtà intorno a me, questa ritorna ad essere solamente energia e informazione, non esiste più nel concreto. La mia attenzione è solo sul respiro, mentre tutto il mio sistema entra in profondità interiormente. E posso sentire che con il mio respiro, lo spazio del mio cuore si espande. E' una danza di onde, di luce, dal centro del petto verso l'esterno. Ritmata dal mio respiro in entrata e in uscita. Si apre uno spazio di luce lungo la colonna e insieme allo spazio del cuore si espande potente. La luce pervade il mio corpo. Il sorriso interiore si concretizza. Ne sento l'energia dentro di me. Lascio che la mia luce vada oltre i confini del corpo. Do l'intento che si espanda in apertura. La perfetta geometria intorno a me si unisce al mio respiro. Quando io divento un respiro insieme alla fonte. L'eternità intorno a me è ricca di informazioni. Posso sentire l'abbondanza dell'infinito. Posso sentire l'abbondanza dell'infinito. Ar & Cvar nona Vorrei. L'eterno esistere di qualunque cosa. Mentre il mio cuore continua ad espandersi. E posso sentire la mia gratitudine andare verso l'esterno, dal centro del mio cuore per rispandersi nell'universo, gratitudine per tutto quello che ho, per tutto quello che non ho ancora, gratitudine perché tutto è possibile gratitudine perché non esiste la scarsità, esiste solo l'abbondanza posso sentire che i miei intenti sono una cosa sola con il respiro dell'universo posso sentire che tutto quello di cui ho bisogno è alla distanza di un respiro inspiro inspiro e porto dentro di me tutto quello che mi serve ed espiro energia di gratitudine inspiro energia di abbondanza economica di amore ed espiro energia di gratitudine inspiro energia di guarigione e cura di bellezza espiro energia di gratitudine inspiro energia di intelligente inspiro energia di intelligente inspiro energia di intelligenza, di gioia, di grazia, espiro gratitudine rimango nella sensazione imparo come ci si sente ad avere tutto quello di cui ho bisogno mentre lentamente riprendo a fare qualche respiro più profondo è in perfetto equilibrio col mio corpo, con l'ambiente che mi circonda comincia comincia a muovere le mani, i piedi ritornare nel qui e ora materiale e lentamente riapro gli occhi grazie buona serata grazie allora parliamo di abbondanza d'amore e abbondanza economica qual è la chiave dell'abbondanza economica? ricchezza o povertà dipendono dai nostri pensieri Robert Kiyosaki per chi non lo conoscesse è molto famoso fa parte di questi migliorari o miliardari americani che si occupano di ricchezza e di diffondere le regole energetiche anche spirituali della ricchezza padre ricco padre povero è un classico se vuoi diventare ricco pensa come i ricchi è una questione di pensiero i soldi non sono reali i soldi sono solo una idea cominciamo proprio a rompere una serie di convinzioni che ci hanno messo dentro qual è la chiave dell'abbondanza d'amore? l'abbondanza d'amore dipende dai nostri pensieri gli uguali si attraggono nel dualismo lo sappiamo abbiamo l'amore incondizionato e la gratitudine quindi se siamo nelle frequenze dell'amore e della gratitudine attiriamo nella nostra vita ciò che è positivo e impediamo ciò che è negativo abbiamo già visto che se invece siamo nelle paure nei sensi di colpa attiriamo ciò che è negativo e impediamo ciò che è positivo le paure riguardano il futuro i sensi di colpa il passato nel qui e ora non c'è né paura né senso di colpa allora è possibile trovare un modo di pensare che ci dia sia abbondanza di amore che abbondanza economica? allora noi sappiamo dalla scienza e dalla spiritualità che questo è lo schema nostro abbiamo il nostro subconscio dove ci sono tutte le nostre paure i nostri sensi di colpa abbiamo il nostro superconscio che è il nostro collegamento al campo quantico di infinito amore e intelligenza e avevamo visto che quando siamo qua siamo in amore e gratitudine quando siamo nelle paure nei sensi di colpa siamo nel nostro subconscio quali sono le conseguenze? che se noi continuiamo a rimanere nel nostro subconscio nella mente razionale l'unica mente che ci hanno insegnato a usare siamo in un'intelligenza abbiamo visto molto limitata l'intelligenza più piccola che abbiamo e siamo in una risorsa lineare quando noi invece passiamo nel nostro superconscio siamo in amore e gratitudine in connessione col campo di infinito amore e intelligenza e qui abbiamo le nostre risorse esponenziali vi ho detto che siamo nell'era esponenziale e quindi ci servono risorse esponenziali più che mai e con lo spiritual quantum coaching e life impariamo proprio in modo consapevole a operare lì quando siamo nelle paure nei sensi di colpa siamo nel nostro subconscio nella mente razionale e quindi ci blocchiamo e ci impediamo di andare nelle nostre frequenze di amore e gratitudine e quindi di accedere alle nostre vere risorse quando invece siamo nel superconscio siamo in amore e gratitudine e allora siamo nel nostro potere personale nelle nostre risorse esponenziali siamo nella gioia e siamo nell'abbondanza infinita di amore inoltre esiste il principio di sincronicità allora abbiamo visto che la fisica quantistica ci insegna che tutto è materia tutto è informazione tutto è energia abbiamo tre modi diversi di vedere la realtà come ci insegna Albert Einstein tutto è energia lui l'ha dimostrato per primo e se tutto è energia e tutti sintonizzi sulla frequenza della realtà che desideri non potrai che ottenerla e avevamo anche visto che la fisica ci ha dimostrato che se io guardo la realtà come materia ho una informazione per esempio vado dal medico vedremo tra l'altro lo prossimo seminario guarda il mio fegato come materia perché la medicina all'opatica fa quello del mio fegato ha una informazione se io invece lavoro per energia e informazioni sul mio fegato posso avere un miliardo di informazioni perché abbiamo visto che la fisica ci dimostra che le quantità di informazioni associata all'energia sono un miliardo rispetto a quelle della materia questo vale per tutti allora uno dei grandi salti da fare quando si parla anche di soldi è di ragionare per energia e non per materia i soldi sono energia se io guardo i soldi come energia allora accedo al miliardo di informazioni sui miei soldi se li guardo come materia ne ho uno e notate che proprio in quest'epoca dove si va verso la dematerializzazione di tutto i soldi sono la cosa più evidente quelli stampati rispetto alla quantità di denaro circolante sono una parte infinitesima sono numeri cioè l'epoca contemporanea ci dimostra proprio che la ricchezza sono numeri allora se io invece li vedo come materia ne capirò ben poco devo vederli come energia allora se io guardo i miei soldi il mio conto in banca la mia attività economica la mia ricchezza come materia io ho una informazione se io li guardo come energia arrivo ad avere un miliardo di informazioni sui miei soldi sulla mia economia sulla mia azienda ne parlo nel mio libro l'azienda quantica l'altra legge fisica importante da capire che deriva dall'entanglement quantistico di cui abbiamo già parlato molte volte è il concetto di sincronicità espresso da quel genio che è stato Carl Gustav Jung noi siamo abituati a ragionare per causa e effetto poiché c'è la crisi io ho problemi economici poiché il governo alza le tasse io ho causa e effetto ma la fisica prima e Jung dopo ci hanno dimostrato che la causalità cioè il principio di causa e effetto ha un mero valore statistico è una ipotesi di lavoro su come evolvono gli eventi il fatto che dici che c'è la crisi e ti dà problemi è un'ipotesi di lavoro quello che è una legge invece universale è la sincronicità la sincronicità descrive la coincidenza degli eventi la coincidenza degli eventi nello spazio e nel tempo ha un significato molto più ampio che quello del puro caso l'esempio che faccio sempre stamattina sono uscito in bicicletta e ho bucato una gomma questa mattina sono uscito in bicicletta e ho bucato una gomma tutto questo ha un senso più ampio della sfortuna di stamattina perché ci dice Jung e deriva dall'entanglement quantistico che c'è una interdipendenza degli eventi oggettivi tra di loro questa mattina ho bucato la gomma della bicicletta e gli stati psichici soggettivi degli osservatori in che stato d'animo eri quando sei uscito in bicicletta? arrabbiato, calmo e appena litigato? qual era il tuo stato psichico? il modello della fisica contemporanea fisica quantistica è una struttura psicofisica l'evento microfisico o bucato la gomma della bicicletta include l'osservatore e le condizioni soggettive e psichiche nella totalità della situazione momentanea tu non puoi più isolare la psiche da quello che ti succede nel mondo fisico perché il mondo è una struttura psicofisica non solo non puoi neanche isolarti dalla totalità della situazione totalità e totalità quello che accade su plutone ti riguarda quello che succede alla foresta amazzonica ti riguarda riguarda il fatto che hai bucato la gomma della bicicletta è chiaro che non siamo abituati a pensare così e quindi la domanda è come si fa a lavorare in questo è quello che insegniamo nei nostri corsi ma è fondamentale capire tutto questo applichiamolo alla situazione economica la coincidenza dei tuoi eventi economici della tua storia economica di quello che guadagni eccetera nello spazio e nel tempo ha un significato più ampio del caso perché c'è una interdipendenza tra i tuoi eventi economici oggettivi e i tuoi stati psichici soggettivi qual è la tua psiche quando occupi dei soldi parli di hai paura, hai paura della crisi hai paura, hai paura, sei sereno, sei tranquillo qual è il tuo stato psichico il modello del mondo economico è una struttura psicofisica lo dicono le leggi della fisica gli eventi microeconomici sui tuoi soldi includono te le tue condizioni soggettive psichiche nella totalità della situazione momentanea non so se economia e commercio insegnino questo ma questo deriva direttamente da tutte le equazioni della fisica quantistica e della fisica unificata notate noi arriviamo da una mentalità di separazione siamo abituati a dire beh c'è la chimica c'è la matematica c'è la biologia c'è la psicologia c'è la medicina ma perché diciamo anche per comodità abbiamo imparato a dividere in pezzi ma se tutto è uno tutto è uno non puoi separare la psicologia dalla fisica quantistica dalla medicina dalla letteratura o dalla geometria o come abbiamo anche già visto dagli alberi ci sono dei principi unificanti unificatori di tutto quando separiamo è la nostra mente che tende a dividere dobbiamo fare un lavoro uno sforzo per ritornare a unificare tutto sempre il principio di sincronicità ci dice che tra quello che tu pensi quello che tu provi e ciò che tu credi quindi i tuoi pensieri le tue emozioni le tue credenze interagendo con tutto e tutti nell'universo e quello che si manifesta nella tua vita c'è sempre sincronicità non ci sono eccezioni è una regola assoluta dell'universo e l'abbiamo già vista questa regge quando abbiamo parlato pronto di fisica quantistica e fisica unificata se l'applichiamo ai soldi vuol dire che tra ciò che tu pensi dei soldi ciò che tu provi sui soldi ciò che tu credi dei soldi interagendo con tutto e tutti nell'universo e i soldi che si manifestano nella tua vita c'è sempre sincronicità non ci sono eccezioni se vi sembra un modo di ingegnere da lavorare è vero sono un ingegnere e io vado avanti così sono equazioni sono le equazioni della vita se i soldi che si manifestano nella tua vita non ti vanno bene allora cos'è che devi cambiare ciò che tu pensi dei soldi ciò che tu provi sui soldi ciò che tu credi dei soldi nell'interazione con tutto e tutti qual è la prima cosa che vi ho detto che dice Kiyosaki Trump e tutti i miliardari i soldi non esistono sono un pensiero e se vuoi diventare ricco devi pensare non mi ricchi ma mica ha detto che devi fare soldi devi pensare perché tutto è energia tutto è informazione e non materia e queste sono le leggi dell'energia infatti anche i pensieri e le emozioni cosa sono? il nostro cervello usa segnali elettrici tant'è che fai l'elettroencefalogramma fai l'elettromagnetogramma perché? perché il tuo cervello emette segnali elettrici e magnetici come qualunque nostro organo vedremo la prossima volta che parliamo con il dottor Lenna di medicina olistica e quantistica quanto questo sia vero noi siamo antenne quindi che trasmettiamo che cosa? pensieri emozioni stati d'animo sono tutte frequenze tutti segnali e noi li trasmettiamo attorno a noi tra l'altro da dove li trasmettiamo? il nostro campo elettrico del cuore è 50 volte il campo elettrico del cervello e il campo magnetico del cuore è fino a 5.000 volte il campo magnetico del cervello quindi vuol dire che quello che noi trasmettiamo fuori è quello che passa nel cuore e nel cuore cosa passa? ogni pensiero ogni emozione ogni credenza quindi il nostro cuore si emisura genera un campo elettromagnetico attorno a noi che varia varia in funzione di tutto questo questo campo elettromagnetico non si riesce a misurare ma sembra arrivi a qualche chilometro come lo chiamavano gli antichi questo campo elettromagnetico emesso dal cuore? l'aura l'aura di cui sempre si parla nella spiritualità antica che cos'è? è il campo elettromagnetico che il nostro cuore genera e che si misura allora ogni sentimento ogni emozione è una vibrazione lo senti tu vibri di gioia o vibri di paura se è una vibrazione vuol dire che è un'onda e vuol dire che c'ha una frequenza e diciamo che abbiamo frequenze positive di amore o frequenze negative di paura e l'abbiamo visto quindi noi trasmettiamo che cosa? noi siamo antenne riceventi e trasmettenti su quali campi di frequenza? sulle paure i sensi di colpa le distruzioni il dolore oppure sull'amore la gratitudine la gioia l'abbondanza eccetera allora per come funzioniamo se io trasmetto amore gioia e gratitudine ricevo amore gioia e gratitudine per la legge di risonanza che è la legge delle antenne così funziona il vostro televisore funziona qualunque apparecchiatura elettronica ci sono le leggi universali della fisica e noi funzioniamo nello stesso identico modo se io trasmetto gioia riceverò gioia perché mi sintonizzo sulla frequenza della gioia e quindi tutta la gioia che c'è nel mondo viene a me se io invece mi metto nelle paure nei sensi di colpa nei timori nell'odio vado in risonanza con quelle frequenze e nella mia vita vedrò quello notate che noi riceviamo nella nostra vita in base a quello che trasmettiamo se io trasmetto amore gioia e gratitudine abbondanza nella mia vita attirerò amore gioia e gratitudine abbondanza attira un termine errato risuono con tutto quello che nell'universo è così se invece trasmetto rabbia nella mia vita incontrerò persone arrabbiate situazioni di rabbia ma sono io che decido è come dire io sono il telecomando del mio televisore se io premo due vedrò quello che è il canale 2 se premo sette premo il canale 7 se io premo il canale della gioia nella mia vita vedrò gioia se premo il canale della rabbia nella mia vita vedrò rabbia non trasmetto ciò che ricevo ovvero tutti ce l'hanno con me e quindi io sono arrabbiato c'è crisi e quindi io sono in crisi no se così fosse se saresti una vittima invece noi riceviamo nella nostra vita l'energia che mandiamo fuori è legge fisica a cui non si può venire fuori questo ci dà potere nella nostra vita e vuole anche dire che se quello che c'è nella tua vita non ti piace devi cambiare te punto come dire se non ti piace il canale che stai vedendo al televisore tu c'è il telecomando premi un altro tasto allora il lavoro siamo così sicuri che quello che davvero ci interessa è il lavoro allora vediamo l'etimologia della parola lavoro lavoro deriva da labor che vuol dire fatica duro sforzo sinonimi sono travaglio dolore sofferenza affanno difficoltà afflizione mortificazione schiavitù tortura tant'è che si parla di durare fatica operare faticando e sinonimo di lavoro è travaglio anche in piemontese per il lavoro si dice travai travaié travaié in spagnolo trabajar in tutte le lingue questo lo trovate sulla traccani eccetera quindi da dove deriva la parola lavoro labor anzi travaglio deriva dal latino tripaglium e il tripaglium era uno strumento di tortura composto da tre pali su cui veniva posto lo schiavo e torturato questa roba qua questo è il lavoro questo è il lavoro andate guardate se andate a vedere la treccani lo zingarelli dicionario della lingua letrina dell'elemonie è questo quindi attenti quando uno dice voglio più lavoro questo stai chiedendo questo e notate che questa non è un'eccezione tutte le parole sono state eccherate pensiamo a una bellissima passione avere passione cosa è diventato la morte e la tortura di Cristo tutte le parole sono state eccherate oppure quello che vogliamo è ricchezza e abbondanza il lavoro è un'energia totalmente diversa da quella della ricchezza e dell'abbondanza ragionate per energie se io voglio lavoro chiedo lavoro e do energia al lavoro ma con l'abbondanza e la ricchezza economica non c'entrano assolutamente nulla tant'è che effettivamente la gente lavora sempre di più ma poi dice ne ho sempre meno soldi ma tu stai chiedendo lavoro stai dando energia al lavoro non all'abbondanza economica è chiaro se ragioni per energia è immediato capirlo guardate oggi vi parlerò di una delle mie simpatie che è Joe Bezos di Amazon tanto per dire come siamo cominciamo a parlare di quanto siamo in un periodo storico più ricco che sia semmai stato queste sono le ultime sono alcune delle acquisizioni che ha fatto Amazon notate si ragiona ai miliardi di dollari ormai i milioni non contano più si ragiona per miliardi questa società Wolf Foods è stata pagata cash proprio dollaro su dollaro 13 miliardi di dollari questo un miliardo c'è miliardi di dollari per acquisire aziende che vuol dire che ovviamente sono state generate persone che hanno miliardi di dollari e sono tante lo vedremo ora una delle leggi energetiche della ricchezza nel corso di spiritual quantum life stile di vita ne parliamo di queste leggi per esempio è la legge della decima è una legge che deriva antichissima che tutti i ricchi applicano in modo da millenni da sempre la legge della decima dice che e la riprenderemo se tu vuoi arricchirti il 10% di quello che sono i tuoi guadagni li dai i regali guardate Amazon ha fatto la donazione di 2 miliardi di dollari visto il suo giro d'affari nel 2018 per persone che non hanno famiglie che non hanno case e per creare in America scuole infantili Montessori e la prima scuola ha ricevuto una donazione di 97 milioni di dollari non so in Italia quante scuole Montessori abbiano ricevuto 90 milioni di dollari di donazione perché la nostra la mentalità in Italia deriva dalla chiesa che alla fine è pauperistica io ho lavorato tanto negli Stati Uniti quindi è normale perché tutti i ricchi fanno le fondazioni perché sono società per gestire la loro decima ne hai così tante che ti servono delle società perché le fanno perché diventi più ricco e matematica sono le leggi energetiche dell'abbondanza che non sono ancora quelle spirituali siamo ancora a un livello lasciatemi dire più tecnico guardate gli unicorn non so se le conoscete nello slang delle eco cioè delle new company sono le società capitalizzate più di un miliardo di dollari tutte nate adesso by dance cinese 75 miliardi di dollari uber vale 72 miliardi di dollari che è la più grande società di taxi e non possiede neanche una bicicletta come arbnb è la più grande società alberghiera non possiede neanche uno sgavuzzino perché siamo nella sharing economy nell'economia della smaterializzazione queste sono tutte società nate adesso unicorn cioè che hanno tutti superano queste guardate 29 23 15 billion dollar si ragiona ormai per miliardi di dollari se andiamo a vedere se andiamo a vedere solo nell'ultimo anno nel 2018 sono nate 119 unicorn company 119 nuove società da più di un miliardo di dollari e tra l'altro 47 per cento in america e 29 per cento in cina queste sono tutte nuove società nate alcune le si riconosce altre le conosciamo meno tutte che fanno soldi attraverso internet miliardi quante ce ne sono decine decine e tutta la new economy quante opportunità ci sono oggi un'altra interessante opportunità è quella dei videogames noi siamo abituati a pensare il videogame una perdita di tempo bene secondo voi se andiamo a vedere negli sport che pensiamo che siano quelli ricchi dov'è che oggi girano i soldi grossi i soldi vuol dire premi bene allora l'unica società che guadagna gli US Open di tennis americani hanno 50 milioni di dollari di premio per chi gioca ma subito dopo c'è The International Esports Dota 2 24 milioni di dollari oggi l'esport come si chiamano cosa sono gli esport sono i games i giochi giocati in internet a squadre videogame videogame è lì che oggi stanno arrivando ci sono i grandi soldi anche se è una delle tante cose che la televisione non vi dirà mai guardate il soccer che è il nostro confederation cup americano 20 milioni però e-sport legend 5 milioni dota 2 3 milioni tour de france sono 2 milioni le squadre le squadre che fanno e-sport ad esempio le cloud fattura 310 milioni di dollari come? vincendo giocando ai videogame sono squadre che giocano ai videogame e i premi queste sono 11 squadre per 92 giocatori di cloud e così via notate che l'industria del gaming dell'e-sport fattura 135 miliardi di dollari che è il doppio di tutta l'industria cinematografica più quella musicale noi pensiamo che il cinema sia il grosso business e-game il mondo sta andando in modo diverso da come ce lo viene dipinto questi sono ragazzini che giocano passano la loro vita a giocare e guadagnano milioni di dollari è un lavoro impegnativo passano 15 ore al giorno ovviamente a fare strategie miliardari nel mondo mai così tanti stanno crescendo guardate nel 2000 ce ne erano mille oggi siamo abbiamo più che raddoppiato scusate da 500 a 2000 la crescita dei miliardari ad esempio del 2017 come vedete tra l'altro l'Asia più 30% l'Oceania più 28% l'Europa più 8% il numero dei miliardari più alto in Europa ormai come vi dicevo si ragiona su miliardi di dollari ma non più per due persone una volta c'era il re e la regina qui sono migliaia di persone interessate se una società viene pagata un miliardo di dollari gli azionisti tutti quelli che sono sotto ovviamente ne godono quindi cosa vogliamo vedere lavoro o abbondanza economica e ricchezza sono due energie totalmente diverse povertà o abbondanza cosa vuoi far crescere nella tua vita per legge energetica tutto quello su cui concentri la tua attenzione cresce nella tua vita tutto quello a cui togli la tua attenzione si disintegra e scompare quale attenzione? i tuoi pensieri subconsci le tue emozioni le tue credenze a seconda di dove tu ti orienti cresce uno piuttosto che l'altro per sapere su cosa stai focalizzandoti basta che osservi quello che hai nella tua vita perché è in risonanza perfetta con quello che tu pensi e quello che tu credi e quello che tu senti e qua si capisce quello che diceva Einstein è meglio essere ottimisti e avere torto che pessimisti e avere ragione notate che noi si attendiamo invece a fare il contrario no no è meglio premunirsi perché non si sa mai tu sei troppo ottimista poi le cose vanno male non importa è una cosa energetica lui ti dice che se tu sei ottimista metti energia nel positivo non importa se poi va male stai dando energia al positivo se invece sei pessimista stai dando energia al negativo e quello crescerà nella tua vita ragionare per energia non per materia questo è il più grande salto quantico che possiamo fare nella nostra vita sia spirituale che materiale guardate questo l'ho fotografato un po' di tempo fa 25 novembre 2017 era una stazione ferroviaria allora giornata mondiale contro la violenza sulle donne scarpe rosse contro la violenza sulle donne che cosa fa questa manifestazione? assolutamente aumenta la violenza sulle donne perché io raccolgo 100 persone che danno energia alla violenza sulle donne ragionare tu dici no sono contro ma le energie non conoscono la parola contro è come dire io ho delle piante ho le rose e le gardenie e io innaffio le rose contro le rose tu le innaffi quelle crescono se tu dai energia alla violenza sulle donne crescerà la violenza sulle donne allora ricordatevi che chi governa il mondo lo governa per energie e le cose che vi sto raccontando sono il suo pane quotidiano perché per esempio a settembre su tutti i giornali i telegiornali dicono stanno facendo i vaccini per l'influenza l'influenza U97 arriva l'influenza U97 e perché non la M22? e perché tutti a parlare della U27 o quel che l'è? per un semplice motivo che io do energia a quell'influenza e quella si diffonderà e chi fa i vaccini sa benissimo le leggi energetiche come la giornata di prevenzione al tumore al seno a cosa serve? a aumentare le clienti perché tu semplicemente stai dando energia al tumore al seno tu dici è contro l'energia non conosce la parola contro conosce che stai pensando quello stai dando energia a quello se tu vuoi far star bene le persone come devi dare energia al positivo che è tutta un'altra storia ad esempio giornata gratuita di shopping questo cambia il mondo perché? cambia l'energia dai energia al positivo quello a cui tu dai energia quello cresce eh? quello ma non le fate io sono leggi della fisica sempre lì ho trovato quest'altro volantino tradizionale cenone natalizio sobrio mi raccomando eh deve essere sobrio e c'è minestrone pane vino acqua di rubinetto cioè cenone di capodanno ovviamente deve essere mortificante mica che siamo lì e gioiamo no devi essere nella rinuncia nel sacrificio nella sofferenza perché così aumenta quello nella tua vita attenti all'energia e le parole sono energia allora vediamo il rapporto tra religioni e ricchezza questi sono studi questo è il World Economic Forum agosto 2018 sono stati fatti negli ultimi anni molti studi Deloitte eccetera che rapporto c'è tra le religioni e la ricchezza? bene sono stati fatti studi su 109 paesi nel mondo e viene stato dimostrato che man mano che le persone abbandonano le religioni aumenta la ricchezza e il benessere delle persone e della nazione 109 paesi questi sono i grafici perché? perché cambiano il loro modo di pensare la religione ti fa pensare i soldi sono male lo sterco del diavolo beati i poveri dai energia alla povertà è fisica man mano che tu abbandoni questi paesi sale la tua ricchezza personale quindi del paese matematica dimostrata 109 paesi è stato fatto lo studio e non vado oltre se volete capire il perché ovviamente ascoltate Mauro Biglino che pone una bella domanda questo è un video uscito di recente i biglionari si stanno aspettando un periodo orso in slang borsistico di ribassi tra l'altro sarebbe molto interessante vedere come funziona la borsa e le banche però non ne parlo stasera e Mauro Biglino si chiede a cosa serve l'oro a noi umani lo mangi? no ci fai strumenti? no e quindi perché tutto è basato sull'oro? la risposta ovviamente si trova nella Bibbia l'oro serve solo una cosa nelle apparecchiature elettroniche ma i nostri antenati che se ne facevano e perché tutto questo? nella Bibbia trovate le risposte allora questo è un famoso classico di Napoleon Hill pensa e arricchisciti ed è il 37 ed è stato un po' l'antessignano di tutto il movimento di come si chiamano miliardari illuminati che vogliono aiutare le persone pensa e arricchisci te stesso ricordatevi la prima cosa che vi ho detto la ricchezza è un pensiero i soldi non sono materia sono un pensiero e diciamo sempre di questa fila Robert Kiyosaki io più di dieci anni fa avevo fatto la sua scuola di coaching di business coaching manager aziendale come imprenditore io faccio l'imprenditore tra le altre cose allora e lui ha introdotto il concetto della ruota del criceto cioè noi lavoriamo per avere dei soldi che poi li usi per le spese e poi devi di nuovo lavorare sei in questa ruota infinita come il criceto che gira lì dentro e non esce mai perché perché ci hanno insegnato che dobbiamo lavorare per i soldi ma i ricchi non lavorano per i soldi nessun ricco lavora si diverte a fare quello che fa secondo voi puoi lavorando mettere cioè avere un miliardo di dollari? no lavorando puoi solo essere nella ruota del criceto quindi il passaggio concettuale è non io lavoro per i soldi ma i soldi lavorano per me che è il passaggio che fanno tutti i ricchi nei suoi libri Kiyosaki spiega la sua idea, il suo modello che è famoso anche fatto un gioco che io consiglio si chiama cash flow è stato tradotto anche in italiano tipo Monopoli però ti fa rappresenta bene un po' le sue idee allora quali sono le abitudini di chi è diventato milionario? pensa sempre che c'è abbondanza circondati di persone che pensano come te sposta l'attenzione dallo spendere al fare denaro niente televisione sii generoso i leader leggono ricordate tutto un modo di pensare è il pensiero che fa la differenza guardiamo il potere delle parole se io metto su Google in italiano manifestazione viene fuori questo manifestare in italiano è lotta energia alla lotta e alla rabbia se io lo metto in inglese il manifesting invece nel concetto dove io creo la mia realtà sono due energie totalmente diverse manifestare in italiano evoca un'energia di lotta manifesting che quando ad esempio anche noi nell'SQC2 insegniamo a manifestare è un manifesting cioè come crearti la tua realtà non come contestare dare energia alla lotta di nuovo le parole sono state eccherate grazie 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 a tutti. 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 L'universo è abbondanza infinita e sulla Terra c'è abbondanza infinita per tutti. La ricchezza è una questione energetica, non di materia. Il nostro nuovo mondo economico. Allora, vediamo un attimo, facciamo un salto. Scusate di nuovo, non so perché, c'ho un Mac che mi fa un po' di scherzi. Grazie a tutti. Allora, quali sono le occupazioni più richieste nel 2018? Se voi andate a analizzare i vari report mondiali, vedete che la crescita del mercato, ne abbiamo anche già parlato, si divide più o meno così. C'è un 40% di crescita di crescita nell'area, quello che gli americani chiamano Science, Technology, Engineering, Art and Math. Scienza, tecnologia, scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. C'è un altro 40% di crescita, di richieste dove? In quello che viene chiamato il personal care, che non è l'health care, ne abbiamo già parlato, ma riguarda il coaching, il benessere, l'istruzione. Tutto il resto fa il 20%. Quindi l'80% di crescita mondiale delle occupazioni è su queste due aree, e l'avevamo visto. Quindi crescono le richieste di conoscente nel settore, ovviamente, del mondo digitale e nell'arte. Persone esperte di informatica, robotica, intelligenza artificiale, cinema, audio, foto, più 40%. E più 40% nel personal care. Quindi dove la chiave è il nostro passaggio proprio alla quinta dimensione spirituale. Se noi andiamo a vedere dove crescono i servizi, i valori, crescono là dove le persone fanno la differenza. Crescono nell'istruzione di alto livello e crescono nella cura della persona, nell'attenzione alla persona. Non le ho messe qua, perché non penso di avere tempo, ma avevamo visto che il wellness fattura a livello mondiale tre volte tanto tutto il business di Big Pharma. E se noi prendiamo il fatturato mondiale del wellness, dove dentro c'è il coaching, il massaggio, riflessologia, l'anti-aging, eccetera, tutto questo fa il 92% del business mondiale. Tutta la medicina, sia all'opatica che medicina olistica, fa l'8%. I dati sono del Wellness Global Institute, che tra l'altro ha fatto l'anno scorso presso la Technogym il convegno annuale, e quello di quest'anno è tra poco a Hong Kong. E se voi vedete i report, il mondo del wellness cresce del 12% e l'Italia cresce del 10%. E' tra i 10 paesi top al mondo di crescita nel business del benessere, che non è medicina, è tutto il resto del mondo. Coaching, massaggi, riflessologia, anti-aging, estetica, tutto questo mondo. Quindi qui cresce il valore e le richieste. Dove crollano? Beh, nell'informatica, là dove c'è tutta l'automazione. Thomas Frey, non so chi lo conosce, è un famosissimo futurista, uno lavora per Google, lavora per tanti, e dice un paio di cose molto interessanti. Non è più possibile dire le necessità di istruzione con 4-5 anni di anticipo. Quindi come fai a dire tra 5 anni che professioni servono? Noi dobbiamo preparare studenti per lavori che oggi non esistono, usando tecnologie che non sono ancora state inventate, per risolvere problemi che oggi non sappiamo neanche quali possono essere. Sembra una mission impossible, ma chi lavora nell'informatica, io ci lavoro da 41 anni, è il mio pane quotidiano. E so bene che al massimo ho tre anni di tempo per rifarmi tutto il know-how. Perché questa è la legge di crescita di Moore, che è la legge esponenziale, e che una volta riguardava solo i computer, che oggi però riguardano la vita di tutti. Allora, col fatto che mediamente ogni tre anni ti devi rifare il know-how, questo crea una necessità di aggiornamento continuo. E quindi lui dice che, questo si sa già, cambierà tutto il modello di studio-apprendimento, è già in atto, grazie all'intelligenza artificiale e la robotica, per cui corsi di studi che oggi durano quattro anni si prevede che dureranno due mesi. Ma perché non ci avrai più di tanto tempo per imparare? Deve essere veloce l'apprendimento. E si sta già accadendo. Secondo lui, entro il 2030, quanto manca il 2030? E domani? Ad esempio, quando faccio discoteca, tanti vogliono musica anni 80, ma gli anni 80 sono passati da quanto? Ben più di quanto ci separa dal 2030. Bene, la più grande azienda su internet, secondo lui, sarà una società di insegnamento di cui oggi neanche sappiamo quale sia. Probabilmente non esiste ancora. Notate, non entro anche questo, anche se sarebbe un bellissimo discorso, oggi c'è il tema della società a costo marginale zero. Cioè, il prodotto costa zero. Ma anche il trasporto costa zero. Quindi, ad esempio, è interessante, come fai a fare marketing di un tuo prodotto che costa zero, viene venduto a zero lire, rispetto a qualcun altro che anche il suo prodotto costa zero e viene venduto a zero lire. Se voi provate solo a fare un ragionamento di supply chain, ad esempio, andate al supermercato, trovate la pasta, non so, 5 euro, 10, quel che l'è. Ma se voi pensate a tutta la catena che c'è dietro perché ci sia quel pacco di pasta lì, dici no, meno di un... Io dico, se io già solo io dovessi fare quel pacco di pasta a casa mia, mi costerebbe una fortuna. Non solo, se io ne faccio un chilo costa X, due chili costa il doppio. Qui invece sappiamo che più ne faccio meno costo, per arrivare al punto che oggi il prodotto costa zero. E anche il trasporto costa zero. Allora, come arriviamo allora all'abbondanza? Ci sono due giochi possibili. Uno è quello mentale, razionale, dell'ego. L'altro è quello spirituale, del cuore, con la connessione al campo quantico di infinito amore e intelligenza. Sono due giochi totalmente diversi. Quello mentale, razionale dell'ego è quello della matrix, che è l'unico che ti insegnano. Se fai economia e commercio ti insegnano questo. L'unico che ti fanno vedere. E allora qui valgono le leggi umane della competizione, vinco io, perdi tu, delle paure e dei sensi di colpa. E qua siamo nella terza dimensione. Quella che dipende dalla monkey minds, come la chiamano gli orientali. La mente scimmia, la mente razionale. Ma se usi la monkey minds, potrai solo avere, come dico io, una monkey life e generare una monkey society. Perché la nostra società è matta? Perché deriva da una mente matta. E inoltre i giochi economici non sono propriamente così puliti. Ovvero, non è che ti improvvisi a fare i giochi grossi economici, a giocare in borsa per tanti motivi. Ad esempio, questo è del 2017 già, la Goldman Sachs, che sapete è una delle più grandi banche mondiali di affari, impegnava per il trading 600 traders, 600 persone, che pagava 500.000 dollari all'anno. Quindi sono quelli che, infatti qua chiama i padroni dell'universo, quelli che erano considerati i padroni ricchi. Bene, li ha licenziati tutti e ha assunto 200 ingegneri, e gli ingegneri costano meno dai traders, già per definizione, i quali cosa fanno? Un programma di intelligenza artificiale è che gioca in borsa. E io voglio vederti, quando ti dicono, ti telefono e dicono faccia trading online, tu contro un programma di intelligenza artificiale, che gioca sui 30 secondi di intervallo, non c'è partita. Allora, poi c'è il gioco spirituale del cuore, della connessione al campo quantico di infinito amore e intelligenza. Allora, qui cambiano tutte le regole del gioco. Non valgono più le regole del gioco io vinco, tu perdi, ma siamo nella cooperazione, nell'amore, nella gratitudine, nell'abbondanza di amore, nell'abbondanza economica. Siamo nella quarta, quinta dimensione spirituale. Sono due giochi totalmente diversi. Qui bisogna imparare a manifestare dal campo quantico di infinito amore e intelligenza, l'abbondanza di amore, l'abbondanza economica, ispirati per il massimo bene nostro e degli altri. Qui è sempre win, win, win. Vinco io, vince l'altro, vince il mondo. Ma è un gioco totalmente diverso e richiede impegni e conseguenze diverse. Siamo noi a scegliere. Lo sviluppo progetti CSP è nato 15 anni fa circa, in un momento di crisi, quando tutti i progetti precedenti erano di nuovo crollati per l'ennesima volta. In quel momento di crisi mi sono guardato e ho detto io cosa so fare? So sviluppare progetti per cui faccio centro, sviluppo progetti. Centro è la parola magica perché vuol dire riscoprire il proprio centro. Quello che sapevo fare era quello, ho deciso di sviluppare progetti per contotersi o anche seguendo le mie, diciamo così, idee. Quindi ho unito questo sapere a un gruppo di giovani che invece aspiravano, diciamo, a essere maker perché andava di moda in qualche maniera e le due energie assieme è andato il via a WASP che è un progetto che vuol dire World Advanced Saving Project cioè Tecnologie Avanzate per aiutare il mondo che è un nome che deriva dalla mia esperienza progressa cioè ho visto che tutto si può fare. Non siamo così pazzi da credere di poter salvare il mondo ma siamo così pazzi da lavorare per questo. L'estate entrando in macchina ho visto una vespetta vasaia che stava facendo la sua casa in terra infatti il nostro simbolo è la vespa vasaia e quando ho visto la vespetta vasaia che faceva la casa di terra sono rimasto veramente fulminato ho pensato cavolo ma questa è una stampante 3D cioè questa è una stampante 3D perfetta come fa a sapere dove mette ci ho passato un paio di notti a pensare come faceva a sapere dove depositare come depositare quanto spazio aveva nella cipi quello è il modello prendo il materiale che c'è sul posto terra bagnata gli do la forma il sole l'asciuga non costa niente quindi devo fare una stampante 3D che come la vespa faccia le case di terra e di paglia allora sono passati tre anni e mezzo non avevamo i soldi per fare questo si sognava si sognava di fare una stampante alta 12 metri si sognava di avere i soldi per comprare una pompa per spingere la terra nella stampante si sognava di avere la capacità per muovere tutto ciò e quindi da allora sono passati tre anni e il sogno è diventato realtà soltanto utilizzando la stampa 3D si potrebbe diminuire del 50-60% la quantità di cemento perché potresti depositare il materiale solo dove ti serve quindi già sarebbe qualcosa di etico stampare il cemento la tecnologia è un modo per mettere in atto la mente quindi la tecnologia è la ricaduta della mente sulla materia sulla natura se la mente è malata la tecnologia è malata se la mente è sana la tecnologia è sana sono un imprenditore che cerca di dar forma a un sogno reale di tutti quindi non è detto che l'impresa in sé sia negativa per me da quando abbiamo smesso di seguire il profitto abbiamo più profitto perché la visione del profitto è limitata al domani la visione lontana ti dà degli slanci che generano profitto quindi funziona fare cose utili al mondo economicamente non sono sogni sono incubi seguire l'opposto cercare di fare soldi fregandosene del mondo perché è una roba che si chiude non sta in piedi non è sostenibile economicamente perché il maker fa con quello che ha e francamente io ormai ho sviluppato una fede ferrea che puoi fare tutto quello che vuoi con quello che hai cioè lo so tu puoi fare quello che vuoi con quello che hai e quando cominci a cercare qualcosa fuori da te o da quello che è nella tua cerchia cadi nell'errore la Romagna che cambia la Romagna per me è sempre cambiata e si è sempre adattata alle situazioni Massa Lombarda era un paese dove si produceva frutta poi la frutta è calata adesso il comune di Massa Lombarda mi ha chiesto di fare un monumento che ricordi Massa Lombarda penso che stamperò in 3D un enorme nocciolo di pesca perché questa è la nostra radice della nostra Romagna e un nocciolo di pesca stampato 3D all'ingresso del paese di Massa è la Romagna che cambia per me siamo un paese magnifico dobbiamo riscoprirci e cominciare a dare un po' di spintoni a chi invece sta ancora lì con la muffa bene lui è un illuminato e ha creato questa azienda che fa stampanti 3D e stampa case ne abbiamo già parlato allora convinzioni cambia vita cambiando convinzioni questo è il libro di Gabriele Adalbertas che io consiglio è pieno di programmi abbiamo visto che i soldi sono una questione di credenze di pensiero se io penso che i soldi sono sporchi non farò soldi va cambiato con i soldi sono un mezzo neutrale i soldi sono la radice di tutti i mali so fare buon uso del denaro sono tutte credenze depotenzianti che possiamo avere nel subconscio queste e tante altre se hai problemi con i soldi bisogna andare a vedere che credenze hai quali sono i soldi scarseggiano sempre ci sono soldi in abbondanza è questione di quello che credi pensi e senti tra c'è anche il giudizio è sempre una di quelle cose che ammazza tutto in particolare sui soldi ce n'è uno molto molto suddolo è caro è caro è un giudizio micidiale non c'è niente che è caro è caro comprare un'azienda da 13 miliardi di dollari Giobbezo l'ha pagata in contanti non c'è niente che è caro è quello che è l'esempio che faccio sempre è cappuccino e brioche 3 euro tagliere di sfilata 150 mila euro che differenza c'è tra i due e ascoltate subito che idee vi vengono in mente che emozioni si muovono ah soldi sprecati tutti i giudizi 150 mila euro sempre per rimanere al buon Amazon Bezos ha divorziato la sua moglie ha dato 4% delle azioni a Amazon e quindi ha incassato 36 miliardi di dollari con 36 miliardi di dollari 150 mila euro per un tagliere sono come 20 centesimi e quindi è caro attenti è una trappola per la povertà giusto discernimento ok ho 100 euro non mi compro quel tagliere ne ho 36 miliardi sai la novità mi compro l'azienda che almeno mi fa per me torniamo sempre ai pensieri se vuoi diventare ricco pensa come i ricchi non c'è alternativa se pensi come i poveri sarai povero i soldi non sono reali lo ripeto perché è uno dei concetti di rompenti noi crediamo che i soldi siano una cosa reale sono un'idea che cos'è la ricchezza questa è la classica definizione di ricchezza la ricchezza non si misura in denaro ma in tempo cioè quanto giorni puoi vivere senza lavorare fisicamente mantenendo il tuo attuale standard di vita notate uno dei motivi per cui diciamo che hanno preso sotto attacco negli ultimi anni l'Italia gli italiani è perché secondo uno studio delle banche svizzere gli italiani sono tra i popoli più ricchi al mondo hanno uno stipendio una pensione una casa un'automobile e col vecchio sistema delle pensioni chi andava in pensione era ricco per definizione perché avevi l'ultimo stipendio e quindi potevi mantenerti per un tempo illimitato finché vivevi anzi lo passavi anche alla vedova tutti i soldi ma noi ci hanno abituato sempre a lamentarci e non vedere la ricchezza che abbiamo tutti abbiamo il potere di scegliere io scelgo di essere ricco e faccio questa scelta ogni giorno sono tutti pensieri la prima differenza fra i ricchi e i poveri è come gestiscono pensieri emozioni e paure e guarda caso nei nostri corsi noi insegniamo proprio a trasformare pensieri emozioni e paure le parole non posso riuscirci chiudono la tua mente le parole come posso riuscirci aprono la tua mente ok costa 150.000 dollari ne ho 100 dollari come faccio ad avere 150.000 dollari adesso non entro nei dettagli ma tutti i loro libri fanno questo lavorano a far vedere le differenze di pensiero ma va lavorato a livello subconscio perché solo a livello mentale non basta i ricchi sono avidi i ricchi sono generosi i soldi sono un male necessario i soldi sono potere pensa ad avere la pensione creati delle rendite che pensieri hai e così via trova un lavoro e risparmia i soldi creati rendite le entrate scendono quando vai in pensione no le tue entrate aumentano con l'età e con l'età ringiovanisci anche invecchiare una credenza investire rischioso non investire rischioso quello che voglio sottolineare è che è tutta una questione di pensiero la legge della decima dare e ricevere sono la stessa energia noi siamo abituati a pensare che se io do è diverso che ricevo no l'energia è la stessa quando crei ricchezza è tua responsabilità renderla alla società se dai in carità il 10% mentre crei la tua ricchezza la tua ricchezza aumenta e la legge per cui Bezos ha dato 2 miliardi di dollari in questo mondo di crescita esponenziale non importa tanto quanto tu impari ma quanto velocemente lo fai vi ricordo che quattro anni di corsi ridotti a due mesi veloci tutto è veloce tutto è accelerato c'è sempre della magia nascosta in ogni errore la magia si chiama apprendimento e il fallimento fa parte del successo in Italia abbiamo un problema a detta dei grandi investitori dei business angels sono quelli investitori business angels sono quelli che tu hai un'idea a un'azienda ti danno i soldi milioni di dollari poi loro sanno che su 100 uno ha grande successo ma quella che ha grande successo li ripaga uno dei problemi che radicono loro e lo so perché ho avuto a che fare con le aziende italiane non le aziende con la mentalità italiana noi abbiamo paura di fallire se tu hai un'azienda e fallisci viene vissuto come un peccato perché abbiamo un concetto di peccato sei incapace ma quando mai ho provato ho fallito ho fatto esperienza e rifaccio un'altra tutti quelli che hanno successo falliscono Trump ha fallito otto aziende è andato sull'astrico otto volte otto volte è venuto fuori come tutti i ricchi come fanno per il loro sistema di credenze se invece tu hai la credenza che se fallisci hai peccato hai sbagliato sei un delinquente e non ce la fai è chiaro questo video tra l'altro ho visto che è una cosa in comune con Einstein la pagella l'unica cosa che è in comune con lui 4, 5, 3, 2 allora essere calamite essere in risonanza con qualcuno e qualcosa vuol dire essere una calamita che attira quelle persone o quelle cose non essere in risonanza con qualcuno o qualcosa vuol dire non attirarlo sono le leggi dell'energia come essere calamite positive che cosa determina le nostre frequenze i nostri pensieri le nostre emozioni le nostre credenze siamo sempre lì ma dobbiamo trasformare quelle subconsce il subconscio abbiamo visto è 500 mila volte più veloce della mente conscia perché come diceva Jung la nostra vita è una storia di autorealizzazione del mio inconscio se ho problemi di soldi devo andare a lavorare lì dove ho i miei talenti ho tutta la storia della mia vita dal concepimento l'abbiamo visto tutta la storia dei miei genitori e dei miei antenati se io derivo da una famiglia dove si ritiene che c'è povertà si lavora si fatica io questa roba me la trovo tutte le nostre vite passate e l'ambiente in cui viviamo se tu nasci in America nasci col concetto di business per cui la tua unità di misura sono il dollaro bene o male che sia non parli mai di lavoro parli di business soldi money nel lavoro abbiamo visto un'altra cosa rendi cosciente l'inconscio altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e lo chiamerai destino ed è quello per cui con lo spiritual quantum coaching quando parliamo di abbondanza economica col primo corso impari a trasformare proprio il pensiero povero in ricco col secondo a manifestare l'abbondanza col quantum life che faremo adesso a giugno come creare uno stile di vita per avere abbondanza d'amore economica permanente con l'intelligenza emozionale e la capacità per fare quella che hanno quelli che abbiamo visto prima che falliscono e per creare empatie e relazioni che il world economic forum ha definito la capacità chiave con la nuova rivoluzione industriale e con lo spiritual quantum regression che sull'implosi e le regressioni si impara a sciogliere i traumi subconsci per far emergere talenti e qualità questo nei soldi ma anche nel resto nella vita con i lavori individuali di coaching di Barbara si va a fare questa cosa individualmente come facciamo a essere calamite dell'abbondanza economica c'è un famoso passo del Vangelo che dice a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e qui quel contrafavole dei chiamati teologi ne sparano di ogni non è possibile chi avrà chi non ha gli verrà tolto che scambio non si deve essere sbagliato i ricchi si arricchiscono sempre di più i poveri si impoveriscono sempre di più vi è chiaro perché queste due cose adesso è ovvio parlano di energia se tu sei ricco dai energia alla ricchezza avrai sempre più ricchezza se tu sei povero dai energia alla povertà e sarai sempre più povero legge universale allora narra le fiabe sono sempre molto istruttive la lampada di aladino racconta che la lampada di aladino che poi tra l'altro ovviamente nella traduzione europea hanno cambiato un po' di cose non avevi tre richieste potrei fare tutte quelle che volevi dove si trova si trova in una grandissima caverna con degli alberi meravigliosi dai cui i rami pendevano invece dei frutti grappoli di brillanti che ce n'erano da riempire cento sacchi a raccoglierli allora se io voglio essere ricco devo essere già ricchissimo quindi l'abbondanza e la ricchezza si trovano dove c'è già grandissima abbondanza e ricchezza legge della fisica da qua non si scappa la domanda è e come facciamo a trovare le nostre grandissime ricchezze ricordo che si tratta di leggi universali energetiche se voi state pensando a quanti euro avete in tasca errore state pensando per materia la gratitudine è la chiave la gratitudine è la chiave per l'abbondanza di amore l'abbondanza economica e il rinnovamento e nella quarta rivoluzione industriale per definizione è l'epoca del rinnovamento continuo e costante avete due mesi di tempo per imparare quello che una volta ci volevano quattro anni dice la divina madre l'unica preghiera che è importante adesso è una preghiera di gratitudine l'unica la gratitudine Alex Zanardi quando mi sono risvegliato senza gambe dopo l'incidente che ha avuto ho guardato la metà che era rimasta non la metà che era andata persa e poi lui ha fatto ancora quello che ha fatto cosa vuol dire tutto questo la gratitudine è il modo di controllare i pensieri e passare in uno stato di gioia pensando a tutto ciò di cui possiamo essere grati quando tu esprimi gratitudine ognuno di noi ha tanto di cui essere grato se io sono grato sto dicendo all'universo che ho molto e per legge l'universo te ne dà di più la gratitudine per tutto quanti di voi hanno ringraziato la sedia su cui siete seduti le calze che indossate le surreni quando fanno male le accorgiamo la gratitudine per tutto tutto quello che abbiamo e che siamo e allora cominciamo a vedere l'immensa ricchezza che abbiamo quando tu sei grato ti focalizzi su quello che hai non su quello che non hai le leggi della gratitudine e dell'abbondanza dicono che se ti è rimasta una sola mela all'Alex sono rimasto metà corpo e lui si è focalizzato su quello che aveva non quello che non aveva più se ti è rimasto solo una mela tu gioisci per quella mela se guardi quello che non hai più dai energia alla scarsità e la scarsità aumenta se dai energia a quell'unica mela gratitudine amore tu dai energia all'abbondanza e per legge energetica te ne arriva io devo dire sono stato fortunato che ho capito questo grazie ai miei nonni lo racconto sempre i miei nonni erano tutti dell'ottocento la più giovane era una ragazza del 99 il più vecchio era dell'ottanta 880 da parte di mia madre era un falegname lui di Ulzio Val di Susa viveva una frazione il GAD scusate la Moretta che c'è ancora lui ha passato due guerre mondiali e due alluvioni che gli hanno portato via tutto 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 cosa faceva mio nonno ogni volta che perdeva tutto c'è ancora l'ultimo alluvione ha portato via la casa più niente prendeva due soldi spicci rimasti la moglie e i quattro figli e con quelli andava al ristorante a festeggiare secondo voi cosa festeggiava che erano vivi e ha sempre ricostruito sempre perché per le leggi dell'energia della ricchezza se si focalizzava povero me ho perso tutto eccetera era un problema ok passati i soldati hanno razziato tutto demolito tutto ma siamo tutti sei vivi bello ci vogliono incontro coglioni quando tu non hai gratitudine continui a dire che non hai abbastanza e per legge energetica avrai sempre di meno con la gratitudine dice l'universo io ho il meglio e per legge di risonanza va sempre meglio come diceva Masaru Emoto l'amore è lo yang maschile la gratitudine lo yang femminile tu puoi avere tutto l'amore del mondo ma se non c'è gratitudine non c'è energia quando l'amore viene espresso con gratitudine nasce l'energia anche la vita è amore la morte è gratitudine e bisognerebbe morire ripetendo a rigato narra suo figlio è morto pochi anni fa che lui è morto ovviamente così l'ho conosciuto un paio di volte è una persona estremamente mite come diceva lui anche l'acqua è una molecola di amore e due molecole di gratitudine scusi siamo davvero desolati coglione siamo veramente desolati siamo desolati coglione brazza di coglione non puoi fare attenzione ma dove credi di essere sai guidare o no imbecile mi scusi sono desolati coglione stavo parlando ma certo lui parlava ho appena sfiorato il retrovisor coglione è tutto a posto non si è rovinato dove hai imparato a guidare brutto idiota davvero io le chiedo scusa la prego di scusare coglione è una cosa terribile quello che le è successo che cosa? ho detto che è davvero terribile quello che le è successo povero sulla terra quattro persone su cinque crepano di fame gente che vive nelle cantine per le bombe quelli che muoiono hanno di cancro e ai di essere negli ospedali quelli che vengono violentate da venticinque brutti insieme per far loro capire bene chi è il padrone e ci sei tu tu a cui è successa una cosa terribile ti hanno toccato il retrovisor ma 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 signore adesso si calmi signora ci sono gli alberi sopra di te con le foglie che si muovono al vento li hai mai guardati gli alberi c'è tua moglie che è bella e perde la giovinezza cucinando funghi alla crema mentre tu la crocifiggi l'hai guardato una volta tu ci sono i tuoi bambini hai mai ringraziato qualcuno per la loro per le liscia e le vacche che ti regalano latte burro e formaggio tutti i giorni hai mai detto grazie alle vacche lei è pazzo signore la tua vita è bella pancione è bella 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 da morire guardala pancione ma c'è un problema che noi abbiamo toccato il tuo retrovisore pancione è terribile è terribile è terribile grazie perdono grazie 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 perdono grazie perdono grazie 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 ecco, vedere tutto quello che abbiamo e di cui rendere grazie passare solo la giornata a rendere grazie il lamento è l'opposto della gratitudine perché non riconosce tutto quello che di positivo hai adesso e quindi allontani l'abbondanza non solo è stato dimostrato che il lamento riprogramma il cervello verso la depressione e l'ansia allora, qual è la nostra grotta del tesoro? come diceva Einstein cento volte al giorno ricordo che la mia vita è dovuta alle fatiche di altri uomini e che devo fare il massimo per ridare nella stessa misura allora, Legnano come eravamo? Legnano, 1903 cosa facevano le donne? andavano a lavare al fosso inginocchiate sulla pietra al freddo come dico sempre io tutte le mattine accendo gli incensi a casa mia di fronte alla lavatrice la lavastoviglie l'asciugatrice il frigorifero senza quelli sarei un uomo morto ma è mica tanto che c'è tutto quello come fai a non ringraziare questa fortuna immensa? Venafro 1978 mica tanto tempo fa ancora le donne lavavano al fosso lungo i navigli con le lavandaie in questa zona della Milano antica che ormai sta scomparendo tutte queste cose sono rimaste fuori e sarebbe stato anche molto bello ripercorrere gli itinerari di Stendhal salire magari su uno di quei barconi che navigano nei navigli negli antichi navigli progettati da Leonardo Milano 1963 io c'ero nel 63 cosa servivano i navigli? non per fare le happy hours come fortunatamente oggi c'è ancora il vicolo delle lavandaie per lavare per lavare nel 63 non 1700 come fai a non ringraziare tutta la fortuna lavoro nei campi mondine 1944 nel 44 non è passato tanto tempo c'era la fame e la guerra quando andavo a fare la mondina avevo 13 o 14 anni la mondina è uno di quei lavori infami eri nell'acqua chinata tutto il giorno senza nulla e diceva siccome mio padre era vedova ero diventato casellante lo aiutavo ad alzare e abbassare le sbarre anche lì ero sfruttata non sapevo nemmeno quanto prendevo di paga le donne che andavano alla risaia lasciavano le biciclette lì al casello una mattina nel 44 mi sembra fosse stato maggio quando ci alzammo vedemmo sull'essiccatoio delle scritte che dicevano fate sciopero come le mondine di Molinella non so quanti di voi conoscano questo episodio scorico tra l'altro è già difficile trovarlo Google non lo trovo ho dovuto usare un altro motore di ricerca per cosa potevano fare sciopero nel 44 le mondine cosa potevano mai volere fate sciopero perché vi spetta un chilo di riso al giorno la minestra calda mezzogiorno e un copertone nuovo per bicicletta non è per sentirsi in colpa ma per cominciare a rendersi conto di quanto siamo fortunati queste donne lavoravano tutto il giorno 12 ore chinate nell'acqua con le zanzare eccetera e hanno ristrattro erano stati mandati i carabinieri con l'ordine di alzo zero poi stati fermati per sciopero per avere un chilo di riso una minestra e un copertone per bicicletta 1944 i miei genitori erano già grandi come fai a non ringraziare che vai al bar che a casa hai la dispensa piena non sensi di colpa eh gratitudine mondine nel 2005 ancora oggi le donne fanno di questo cosa fanno le donne in tanti posti ancora portano l'acqua al mattino come fai a non ringraziare che hai l'acqua in casa calda e fredda quando ero piccolo in montagna non c'era al mattino si rompeva il ghiaccio in casa e tu hai l'acqua corrente in casa calda e fredda non è un miracolo nota che hai anche la luce l'acqua ma se tu hai quello vuol dire che hai anche pagato tutte le bollette della tua vita quanta ricchezza è fluita da te riconoscilo e l'universo te ne darà di più New York del 32 operai su trave a 244 metri di altezza molti di questi erano anche italiani leggono il giornale e mangia la 626 qui ha da venire eh che ha da venire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto un motivo di gratitudine. Ogni cosa, ogni elemento, tutto. Contadine 1910. Questa è una foto presa in Val Brembana, faceva freddo e vestivano così. Contadine 2010 nello stesso identico posto. Erano asciutti in Permiss Italia, il riscaldamento globale si vede. Cos'è successo all'umanità che ha permesso in cento anni un cambio culturale, sociale e economico così grande? Sono passati solo cento anni. Le invenzioni dell'uomo. Tutta la nostra invenzione che l'uomo ha saputo fare. Una cosa, la BIC. Quando faccio prima elementare c'era il pennino, macchiavi i fogli, per non parlare di tutto il resto. Tutti motivi di gratitudine. Tutto. Come siamo? Allora, gratitudine a noi stessi, alla nostra generazione, per quello che abbiamo fatto. Solo questo basterebbe perché tutte le mattine dovremmo complimentarci con noi. Ricordando appunto che siamo andando alla quinta dimensione spirituale, quarta rivoluzione industriale, era esponenziale. Era esponenziale vuol dire che valgono le leggi esponenziali. E una delle più importanti leggi esponenziali è la formula di Marisci che abbiamo visto. Cos'è che sta cambiando il mondo? La formula di Marisci. Che ha dimostrato, con gli esperimenti e le equazioni, quando per creare cambiamenti misurabili nella società, cosa serve? Gente che medita. Perché quando si medita, si aiutano cento volte il quadrato del numero dei meditatori. Cosa vuol dire? Che quando tu mediti, aiuti cento persone. Ma quando si è in due, sono già quattrocento. In tre novecento. Guardate che per aiutare l'Italia bastano meno di mille persone che meditano. Per aiutare il pianeta bastano meno di diecimila persone. Ecco i cambiamenti positivi che abbiamo. E quando tu mediti, per legge di risonanza, quando prima Barbara ci ha guidato in meditazione, noi abbiamo mosso tutta questa energia. E a noi qui è tornata l'energia. Se siamo in cento a meditare, aiutiamo un milione di persone. Ma vuol dire che su ognuno dei cento torna l'energia di un milione. Ecco perché meditare in gruppo è così potente. E va in risonanza con tutti quelli che in quel momento nel mondo stanno meditando. E infatti vi invito, quando volete, ogni mese Barbara fa qui delle serate di meditazione che sono la chiave della trasformazione, la meditazione. Vediamo gli effetti. Guardate, la curva delle invenzioni umane. Fino a qua, zero. Da qui in poi, una crescita esponenziale. Che cosa è successo all'umanità? La data di cambio è stata l'invenzione di Gutenberg. La stampa mobile. 1440. Guardate, da qua in poi, gradualmente, oggi la crescita è verticale. Prima rivoluzione industriale, internet. Qui dice la ricchezza individuale delle persone sul pianeta. È rimasta povera fino a qui e adesso sta crescendo esponenzialmente. Che cosa è successo? Con Gutenberg si è diffusa l'informazione. Si è cominciato a diffondere l'informazione e a cambiare quindi il pensiero. E fin dall'inizio abbiamo detto che la ricchezza è un pensiero. E con internet il cambio è esponenziale. Con quello è cambiata l'aspettativa di vita. Quando si dice l'antico saggio aveva 30 anni, notate perché l'aspettativa di vita passasse da 35 a 47 anni, ci sono voluti 2.300 anni. Dal 900, 30 anni. Anche qui il cambiamento segue quello. La popolazione mondiale è rimasta bassissima di nuovo fino lì. Oggi è in crescita esponenziale ed è aumentata di 14 volte in 500 anni. Per millenni è rimasta piatta perché il pensiero era un pensiero di povertà. E questo è quello di cui essere orgogliosi. Il crollo esponenziale della povertà sul pianeta. Ancora nel 1800, 94 persone sul pianeta su 100 vivevano in povertà estrema. Tecnicamente si chiamano poveri estremi che guadagnano meno di un dollaro e 90 al giorno. Oggi siamo a meno dell'8% e c'è stato proprio un crollo. È una curva a decrescita esponenziale. La povertà mondiale è passata in due secoli dal 94% all'8% e sta andando a zero. Mentre la popolazione è aumentata di sette volte. È una decrescita esponenziale. Notate, siamo a meno dell'8% e né mai nella storia dell'umanità il mondo e la popolazione è stata così ricca. Individualmente e quindi come gruppo. in Cina ancora nel 90 il 66% erano poveri oggi siamo a meno dell'1,9%. Siamo nell'era esponenziale. Qui lo si vede crescita esponenziale dell'informazione crollo della povertà. il pensiero restano ancora circa 450 milioni di poveri soprattutto in Africa sahariana e in Asia ma anche qui sta andando a zero. Ci stanno investendo soprattutto i cinesi tantissimo. Ma anche la mortalità infantile è crollata. Ne morivano 43 oggi siamo a meno di 4 e l'alfabetismo 12 sapevano leggere le 800 oggi 12 non sanno leggere. Guardate, sempre la stessa identica curva. L'istruzione nel mondo uguale, guardate, post secondaria secondaria superiore tutto in crescita. la democrazia da 1 a 56 e internet crescita esponenziale. Tant'è che c'è una nuova definizione di povertà la definizione precedente era poveri un dollare e 90 e una persona ha bisogno di abiti e cibo per lavorare. Quello abbiamo visto sta andando a zero allora si parla di povertà chi non ha un accesso a internet un cellulare e un veicolo perché oggi ne hai bisogno però è un salto di qualità notevole è chiaro la nazione in cui attualmente stanno nascendo più ultraricchi è l'India due nazioni che stanno crescendo economicamente tantissimo sono Turchia Egitto inoltre l'istruzione allora già oggi in Africa uno smartphone costa 10 dollari e la maggior parte delle università americane anche europee ha messo gratis open line in line in online i loro corsi quindi vuol dire che chiunque nel mondo può accedere alla miglior istruzione disponibile questo è uno dei siti dove studio anch'io Coursera se andate qui avete bisogno di approfondire un argomento trovate i corsi delle migliori università mondiali oggi non c'è scusa all'ignoranza è chiaro devi metterti lì a studiare ma hai tutta l'informazione che ti serve quando ti serve allora abbondanza illimitata come si fa questo si arriva con la legge del dharma la legge del dharma è una delle due grandi leggi spirituali l'altra è quella del karma dice che ognuno di noi ha dei talenti unici e speciali e un modo speciale per esprimerlo e ognuno di noi tutti nessuno escluso sa fare delle cose meglio di chiunque altro al mondo tutti la legge del dharma dice scopri il tuo vero sé chi sei cosa ti piace cosa ami scopri i tuoi talenti unici e speciali e poi chiediti come posso con questo essere utile a me stessa prima di tutto e agli altri a quel punto dice la legge del dharma che finirà che finirà un'altra che finirà la legge che finirà la legge che finirà Grazie a tutti. 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 Lo vediamo per chi è interessato nel corso di Spiritual Quantum Life che faremo adesso, perché il nostro vero benessere, anche economico, lo troviamo solo se facciamo qualcosa che amiamo, che è davvero nostro. Tra l'altro se tu sei bravo a disegnare pessimo in matematica, cosa ti facevano studiare? Ecco, concetto di scarsità. E invece sono bravo in disegno, quello che ci entusiasma, che sia di utilità, quindi devo fare qualcosa che serva a qualcosa o a qualcuno, è di benessere prima di tutto per te e per gli altri. E questo come si arriva? Sofferenze è salire in quarta e quinta dimensioni e vivere bene la quarta rivoluzione industriale nell'abbondanza di amore ed economica illimitata. Parleremo di meditazione, di gratitudine, come crearci relazioni armoniche, padronanza della mente, parleremo dell'alimentazione sia basata sul cibo che alimentazione pranica, quindi nutrirsi di pura energia. Parleremo del tempo, del corpo, del servizio, della natura e del silenzio e della musica che fa cantare il cuore. E questo lo faremo a giugno. Per chi vuole lavorare su di sé c'è Barbara e sul suo sito, ricordo, il download delle meditazioni e il gruppo di meditazione qua. Negli altri corsi si fa ipnosi spirituale e si impara nel primo corso a connettersi al campo e a sciogliere e trovare tutti quei blocchi, tutti quei pensieri che ci hanno detto Kiyosaki, Napoleon Hill e tutti. Se non cambi quello, non cambi la tua vita. Con l'intelligenza emozionale invece andiamo a misurare, perché si fa il test che oggi è il test di riferimento al mondo, nelle aziende, sulla tua intelligenza emozionale e nelle sue componenti. Vi ricordo che oggi nelle grandi aziende, soprattutto all'estero, ti assumono non per il cui, che non gliene frega niente a nessuno, ma per la tua intelligenza emozionale. Perché è considerata la chiave, io l'ho portata in Italia nel 99, con la società di cui ero direttore, leggendo solo il report di uno vi so già dire che carriera farà, che successo avrà, personale e nel lavoro. E poi con lo spirito al quantum regression, che questo dura quattro giorni, bisogna aver fatto l'SQC1, si impara a fare le regressioni. Nell'invite passate, in utero, e a lavorare su di sciogliere i conflitti. Poi sui nostri canali YouTube trovate video sottotitolati in italiano, inglese e arabo. Abbiamo tutte persone in Palestina e nei mondi arabi che ci seguono. E con questo è tutto. E io vi ringrazio. Namaste. Grazie. 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 Grazie.